SULCIS Sulcis, l'ompio natrogarrico dei clandestinos. I sbarco uno dei clandestinos in iscostas ad esso sulcis. A riserum e riccedo, sa guardia costera, ha da soccorri in mari degli otto personisi totto su della nazionalità del Algerina. S'agittorio è parte uva ciora dei sduas e meso quando una nave di garrico ha sinalato una barchitta accanto a dei gabus perone con una scanto personisi in pizzo. Sa guardia costera è intervenita dei mediao mandando una moto vedetta. I militari si antitramudano il clandestino a su medio e soro e ci usano il lompio da santo antiogo e noi sa polizia e scarabineris di Garbonia usano identificato. A pustisi dei saperiguadas americas i degli otto personisi funti partiasi a vostro centro di Sommaso e si stranjus o antidecrarau di essi partius o dinnante a riseru facciora dei noi orasa demerì del supporto di Annabba. Alcoa Ad essi pagata oi s'avanzata di sagastra integrazione straordinaria poi straballatori dei sapalti alcoa Pocanto ispetta da sagastra integrazione in deroga cosa ad essi pagata di oia da Ascidasa e ad essi però scetticosa dei mesi di Genargio e Friargio 2014 Sclerosi multipla e impreo dei mesi a base di Gannabis In Italia i mesi a base di Gannabinoidisi funti autorizzati usciti e solo pomegare i malati adulti che soffrono di spasticità che andano di demoderata agrai depida sclerosi multipla e chi non ha pantadento respostas adeate lasa meginas antispasticas In su mesi dei capitanni sul Ministerio della Salute pari sagusti della Defensa antidona o supermissi poi vai meginas a Gannabinoidisi a Sistituto Potecario Militari di Virenze Poi noi funti sterrendi il protocollo dei vostri in atto narra s'assessori a s'anità di Arro a Ischissa Regioni Sardigna sada adeguai a Coitto Toto ad essi vatto po' su 2015 in Sarasa poi spazientisi non lo adai sceti suzatti vex posi meigai ma anta prontai meginas asimilisi a subedro cano olandeso e però usendi produsio in Italia adatteni un ubrezio metabro basso sa meginas in chistioni ad essi appostisi sparsinata di Virenze attotto i spotecari asa d'Italia Grugia Arrubia a pretto inundamentoso se a Regioni Sardigna pari sa sa Grugia Arrubia italiana antisigla un protocollo d'intesa che narra commenti imperai i 5 milioni seppruso d'euroso boddioso con i messageddoso sa nuva sa o appostisi desinundamento sa Grugia Arrubia se posta safico de varzili sa Zuma po' medio descrittere su desidioso con un ubando apposito tre esi scategoriasa vossa assegnata dei donazioni is famiglia sa che in sinundamento antidepio la sai domi soro i merisi dei benisi mobili si registrau po' impreo privau perdiuso o arreninauso con sinundata sa graduatori a cabada e sudanti dei donai data dei sidri sa Grugia Arrubia secondo i stempu sa crarauso in subando subando e su modello de dimanda posso contributo antaisi appareccioso de sa Grugia Arrubia parisa sa Regioni che non ha comunicato a tutti con un ubando Argea campagna di assegurare contro le esistrose atmosferiche l'Agenzia Regional di Vossa Amparo dell'agricoltura informa che è aperta la campagna di assegurare contro le esistrose debite su tempo in ottonio e ierro poi scoltura di orto e agruminisi sa volizia incluidi Landiri Astrago Ciligia bentu forti si cagna inundamentoso brinchi dudermico corpo desoli bentu gallenti può ottenne scontributoso e dimanda sa si vincenti su 31 degustumesi può sottascrire i spolizzasa che i punti volontariasa tocca da si dirige il consorzio della defensa ai sproduzionisi dessa provincia di Castello Aristanisi e Tattari saggita sa da proiettare su corso Samori Impossibili che ha mostrato ad agumenti spipiuso bivinti i zabusos in famiglia saggita di si sport contra i zabusos dei femmini ad assigiri vinti a domenico 12 di Santuaini quando lo scanto i spettacoloso mostra sa convenioso e proschettotto manifestata di sportivasa con s'idea di vai mele dai cittadinos pochini erintinou ai zabusos de Donia Genia